Rinascere o cedere? Il Palermo è atteso al match della verità contro l'Empoli, in uno scontro salvezza che ha già il sapore da dentro o fuori. Anno nuovo, vita nuova? Non sembra essere così in casa rosa nero. Zamparini non è riuscito ancora a trovare l'accordo per la cessione della società, in una situazione che resta sempre più in bilico. E parlando di campo, ancora nessun rinforzo è giunto alla corte di Corini, che dovrà far di necessità virtù e tirare fuori il meglio dall'organico a disposizione. A seconda del risultato contro l'Empoli, i rosa nero potrebbero ritrovarsi a meno 7 o a meno 1 dalla zona salvezza. Ma Mr. Corini, per stemperare la pressione, ha gettato acqua sul fuoco sulla sfida contro i Toscani. La gara contro l'Empoli è molto importante, ma non decisiva, perché poi rimarrebbero 19 partite alla fine, ha rassicurato Corini in conferenza stampa. Un risultato positivo ci avvicinerebbe all'Empoli. Sarebbe importantissimo vincere e andare col fiato sul collo degli azzurri. Ma per noi, ogni match è fondamentale. Lavoriamo ogni giorno per vincere la partita successiva. Intanto, qualcosa in ottica mercato inizia a sbloccarsi. Il Palermo ha quasi portato a termine l'acquisto dell'ormai ex attaccante del Sanzval, Stefan Silva, che la prossima settimana sarà in città per effettuare le visite mediche. Il Palermo ha quasi portato a termine l'acquisto dell'Empoli, che la prossima settimana sarà in città per effettuare le visite mediche. Grazie. 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 Grazie.